Ciao a tutti, inevitabilmente quando parliamo di rete, di web, parliamo di motori di ricerca sicuramente il più famoso, il più usato, il più fruibile è sicuramente Google oggi vi volevo invece proporre delle alternative a questo colosso dei motori di ricerca in chiave etica, sia etica che ecologica appunto il primo che vi propongo è l'ILO che è un motore di ricerca appunto sociale come lo stesso si definisce, dove le tue ricerche hanno potere dove il 50% dei proventi dei nostri click vanno a beneficio di alcuni progetti nazionali e sociali l'altro invece che ho avuto modo di utilizzare è anch'esso molto preciso con gli stessi standard qualitativi di Google anche in chiave di privacy e Ecosia che è un motore di ricerca sicuramente ecologico il quale destina parte dei propri proventi pubblicitari sottolineo nuovamente dati dei nostri click appunto destina il 50% del proprio ricavo alla piantagione di alberi ad alto fusto in zone dove appunto ce n'è più bisogno quindi la scelta del motore di ricerca come spesso in altri ambiti che facciamo nella vita comune può avere un'impronta etica un saluto a presto scrivete se avete poi dei dubbi e richiedete delle informazioni a presto ciao 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 ciao